Oggi è la giornata in cui i ragazzi mi hanno reso particolarmente orgogliosa. Mi hanno reso orgogliosa perché hanno onorato e soprattutto rispettato il loro avversario, il lavoro che lo staff tecnico fa con dedizione tutti i giorni e soprattutto la società e la proprietà che investe per permettere loro di giocare. Non era facile in questa partita in cui i punti non erano utili, diciamo questa brutta parola, però era così ai fini della classifica sia di questa prima fase ma anche della seconda che vede la formula farci portare in eredità a solamente gli scontri diretti delle squadre che saliranno con noi alla seconda fase. Per cui loro sono entrati in campo con la stessa determinazione utilizzata e mostrata contro gare come Zagarolo e Danagni e questo ci rende particolarmente orgogliosi. Non era facile avere la stessa voglia di vincere, lo stesso approccio mentale. Loro lo hanno fatto e quindi a loro va un grande applauso per questo e anche a tutto lo staff tecnico, soprattutto perché oggi celebriamo anche l'imbattibilità casalinga perché in tutta la prima fase tra le mura del Palaglobo abbiamo sempre vinto. Quindi ci tenevo in particolar modo a fare complimenti a tutti i ragazzi e allo staff tecnico.